Il giudice Ferdinando Imposimato, coautore insieme a Sandro, provvisionato del libro Doveva morire, che ha ucciso Aldomoro, il giudice dell'inchiesta racconta, è stato l'ospite d'onore della manifestazione svoltasi ieri pomeriggio nella Olamagna della scuola di Montesano Scalo e dedicata ai temi della legalità. All'incontro organizzato nell'ambito dei quattro giorni di eventi previsti dal progetto, le giornate della scuola, oltre al dirigente scolastico di Montesano, Antonietta Cantillo, hanno preso parte tra gli altri il magistrato Antonio Esposito, presidente di sezione della Corte di Cassazione, e il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli. Momenti di commozione della folta platea e di tutti i presenti si sono registrati quando nell'Aulamagna è stata scoperta una gigantografia dei giudici Falcone e Borsellino, vittime della mafia ma legati da un sottile filo rosso al tragico destino dello stesso Aldomoro. Almeno è questa la convinzione espressa anche ieri da Imposimato, che nel suo libro è tornato dopo 30 anni proprio sul caso Moro, scoprendo inediti scenari e raccontando la storia dei 55 giorni che vanno dalla strage di Via Fani e la morte del presidente democristiano. In sette occasioni, ha sottolineato Imposimato, Moro poteva essere salvato, ma nelle stanze del potere qualcuno tramò invece perché venisse ucciso. Ordini di cattura bloccati, i collegamenti provati con la RAF, il ruolo di Cossiga, i verbali del comitato di crisi nascosti per lungo tempo. Trent'anni dopo, uno dei magistrati più impegnati a dipanare gli infiniti misteri del caso è tornato a ripercorrere i meandri dell'inchiesta, che lui stesso cominciò nove giorni dopo la morte dello statista. E ricollocando la sua esperienza in un contesto più ampio di avvenimenti ha offerto testimonianze e rivelazioni decisive. Se ad assassinare il presidente furono le brigate rosse, i veri responsabili e i mandanti della sua morte vanno cercati altrove. Bugie, omissioni, depistaggi, come la scoperta della prigione di Moro, tenuta nascosta alla magistratura. Imposimato anche davanti alla platea di Montesano ha raccontato la sua verità. Chi c'era, chi sapeva e chi muoveva i fili dei tre comitati di crisi del Viminale, pieni di uomini della P2. Insomma, per Imposimato, quella di Aldo Moro fu una morte voluta da troppe persone e troppe fazioni, tutte in lotta tra loro.